Benvenuti nel mondo di Gugu e Gaga Ciao, io sono Gugu e ho 5 anni e lei è Gaga e ha un anno e mezzo da mia sorella insieme ci divertiremo Andremo anche alla Z e impareremo l'alfabeto dalla A alla Z insieme anche ai nostri bellissimi disegni mmm, perché no? impariamo anche i numeri con bellissimi palloncini colorati magari tanti palloncini ci faranno volare boh e nelle giornate tristi, buie, piovose che non sappiamo cosa fare di sicuro ci divertiremo lo stesso seguici su Gugu e Gaga Play